Babbo Natale arriva anche negli uffici delle USCA, le unità speciali di continuità assistenziale, che in questi mesi hanno rappresentato la prima linea sul territorio di contrasto alla pandemia e di assistenza domiciliare alle persone contagiate da Covid-19. Si tratta infatti di un gesto di generosità della ditta Morini, azienda retina specializzata in attrezzature e alberghiere, che per sostenere questo impegno ha deciso di donare strumentazioni elettroniche e arredi da ufficio alla centrale di via Guadagnoli ad Arezzo, tre tablet, un pc portatile ma anche una scrivania e sedie per allestire così un ufficio più funzionale ed accogliente per medici e infermieri. È stato un gesto molto bello, veramente ci ha fatto piacere sia per quello che può aiutarci in senso tecnico nel nostro lavoro sia per quello che è il gesto che fa veramente bene al cuore sentirsi supportati anche da un punto di vista morale nella sfida che abbiamo tutti i giorni affrontato in questi mesi. Un gesto così per ringraziare e sostenere l'importante lavoro di medici e infermieri che in questi mesi ha permesso di curare a casa centinaia di persone, un impegno che ovviamente continuerà anche in questo periodo di festività. Come tutti i nostri colleghi penso sarà un Natale assolutamente allerta, di disponibilità piena perché siamo presenti tutti i giorni dalle 8 alle 20 festivi compresi più il servizio di notte dalle 20 alle 24 e questo non verrà senz'altro a mancare durante le festività. Qual è il vostro appello agli aretieni in vista di queste festività? Assolutamente mantenere quelle misure di precauzione che sono state consigliate, laddove anche una riapertura sarà consentita, però tutta la protezione individuale, il mantenimento della distanza, ridurre veramente al minimo i contatti e gli assembramenti saranno fondamentali per limitare al massimo il ripetersi di quella situazione che ci si è presentata fra ottobre e novembre. Questo penso dipenda dalla responsabilità individuale di ognuno di noi, indipendentemente da quelle che sono le direttive e le leggi. Grazie.